guardano no raga questo lo dobbiamo ammazzare ecco lo sapevo tra l'altro raga volete sapere una cosa quello la è mio acappa ah ecco vedi che rubano le armi è mio acappa questo ma dai raga ma avete visto come si chiama mohammad hazeze cento abbiamo lì di scontro ma per vedere se si ambari così ci reclutano non mi fido che gira di co io se riesco con tutte le mie forze a girare proprio lontano dalla no vabbè ma camperano sta nello spawn è andato il secondo io mi devo incazzare eh io mi devo incazzare oh cazzo mike dove sta bastardo 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 infame come te lo spiego eh non puoi spiegarlo perchè quello corre è infatti fai solo occhio che gira ancora con l'accetta quel balordo ragazza raga raga il silenziale il silenziale eh ma il silenziale però ti devi togliere un qualcosa tipo calcio raga dove è l'ultimo si metti silenziatore calcio in teoria subì ah subì lo prendete oh ok disattiva merda grande che coglioni di merda e gira con l'accetta guardano lì dove un figlio di puttana è questo qua dobbiamo tenerlo d'occhio perché sicuramente c'è silenzio di tomba propulsione furtiva è su ino è in mezzo è in mezzo ma onna ragazzi raga ditemi quando lanciare il tua via eh sgancio lo vado a vi tanto a sto punto ci conviene vediamo dove è come torretta rinforzata ostile visto no raga la torretta no raga siamo tutti qua chiudi averla piazza merda c'è la torretta cambia 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 via 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 ma dove l'hanno messa sul tetto raga ce n'è uno madonna l'ho visto saltare ho visto la torretta pure raga c'è uno qua comunque cambio cambio quello con l'accetta no no raga quello con l'accetta ne ho ucciso dov'eri ma che cazzo di personaggio è ma ho ucciso te era fuori dalla porta si era fuori dalla porta che camperava vai mike c'è 50 secondi eh lo so è solo uno è solo e c'è lui contro quattro guai dura guarda guarda come gli sale il panico guarda come gli sale il panico muhammad è caduto fuori tutti e quattro muhammad è caduto non ci credo guarda come sale il panico guarda guarda è tanto più di stare su sui luoghi lì tu a e b eh ma la perdi eccolo lì sopra lì sopra gran che qua occhio che molti hanno sentito vai sopra dal buco che sopra il buco sopra che è sopra di te oh 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 cazzo oh merda un attimo mi sono visto morto mi sono visto morto eh mamma di c'ha sempre le vie di uscite in questi momenti critici madonna ma cos'è sta kill perché eh per me sono solo di ricordarsi le mappe mike mamma mia madonna mi è venuto all'ultimo momento ricordo che c'era una botta a sopra ragazzi non lo so io che cazzo secondo me l'approvvigionamento non serve a nulla dipende se ti esce un attacco fulminio o un elstrom tanta roba vogliamo vedere chi prende l'hcxd ah adesso qua siamo due contro due ma è tesa cioè no due contro due ah no aspetta ma adesso mi fiume raga hanno fiume raga mi han sentito no c'è uno che compro sulle scale ma perché quelle scale è quelle della casetta dove vai sopra a camperare col cecchino non so se avete presente però dall'altra parte ah sì ho capito dall'altra parte ho capito ho capito oh l'ho visto con la pistola basta sto pezzo di carico Matte Matte dietro 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 Matte Matte niente non mi ascoltare eh eh frate c'avevo quello davanti ho capito ma meglio frate meglio non farsi inculare che inculare giustamente cazzo è bello che poco prima aveva ammazzato pure me eh infatti l'ho visto dalla tua dai raga il primo sta facendo 8-4 raga è lui è lui eh sta facendo tutto con l'accetto tra l'altro sì allora io direi di attirarli su B e poi cambiare totalmente cioè passare per i palazzi e cose e andare a piazzare su A oh minchia se ce n'è hit marker sono tutti su B ne ho preso uno eh io ho fatto hit marker sono tutti qua su B eh no no cazzo 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 sono ancora vivo dove è il cecco? eh sul tetto lì davanti quanti ce ne sono minchia raga non ammazzate nessuno ma cosa è sparito no no ma cosa cosa mi ha ammazzato come l'abbiamo vinto come l'abbiamo vinto mancavano 30 cristiani eh il cecchino l'ho ucciso io poi andando con la cappa ma dove sarebbe stato bello se avesse ucciso di accetta l'altro con l'accetta eh madonna che la sua stessa arma lo streggio più titane eh raga quanto dovremmo vincere a sfruttare questa partita è combattetissima ma giusto per fare no oh cazzo no no è morto il tipo che era qua non lo so sono da solo su B no guarda qui dove è che camperava andato perché mi avete lasciato da solo su B di oggetto da solo zio si ero da solo guarda che io stavo facendo il giro dall'altro lato perché li chiudavamo a panino madonna bella Matteo occhio il granatozzo che si vede lì quella bella mina aspetta eccolo bella bella a red così buona 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 così si deve fare eh ma era rimasto da solo lui aveva ammazzato quello che è dall'altro lato eh lui ci ha provato si eh ma chiunque l'avrebbe fatto cioè chiunque ci avrebbe provato anche perché da sola contro 3 non c'è ne accorgono neppure come ha sempre preso un po' io siamo assolutamente raga comunque è stata bella sta parte avrà che un battuto sì no ma mi ha direttore la vita complimentari e a maiore che avevo detto che questa mappa è stracomplicata questa qua si poi c'è tipo